Due importanti seminari della National Instruments Italia si sono svolti all'Università della Calabria, rivolti a studenti ma anche a docenti. In primo piano gli strumenti per il monitoraggio strutturale e il controllo di edifici, monumenti ed opere d'arte. Monitorare una struttura significa poter monitorare o una struttura, un edificio di nuova costruzione o anche monitorare un manufatto artistico. Dipende da quello che si vuole andare ad analizzare, cioè se si vuole andare ad analizzare fenomeni di fessurativi piuttosto che fenomeni di vibrazionali in base a quello che si vuole andare ad analizzare cambieranno la tecnologia dei sensori. La componente comune è l'elettronica a valle che serve per acquisire questi segnali e fare tutta un'elaborazione di questi segnali, quindi la parte di signal processing finalizzata allo studio e a porre in essere eventuali correttivi. Lo studio dei sistemi di monitoraggio porta lontano, tanto che sta per concludersi il cosiddetto progetto Brindisys, che sfrutta proprio queste tecnologie per consentire anche agli ammalati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, di acquisire una forma di autonomia attraverso l'utilizzo di un tablet in cui sono state implementate delle funzioni di comunicazione per accendere la luce, cambiare il canale della tv o spostare lo schienale della poltrona. Ma sarà possibile anche scrivere o parlare con un apparato vocale sintetico? Il progetto Brindisys è un progetto di ricerca che ha a che fare con la realizzazione di dispositivi elettronici per migliorare la qualità della vita di malati di SLA, cioè di sclerosi laterale amiotrofica. È finalizzato alla realizzazione di un dispositivo in modo tale che questi malati di SLA possano, siano in grado di, tramite il pensiero, di riuscire a comandare tutta una serie di applicativi in ambito domotico, quindi diciamo per migliorare la loro qualità della vita. È un progetto che è stato finanziato dall'Università di Catanzaro in consorzio con altre università del centro Italia ed è stato finanziato da una costola di Teleton, cioè da Arisla, l'associazione di ricerca italiana sulla SLA e da Aisla, l'associazione italiana sulla SLA. Il partenariato è costituito da Università di Catanzaro, dalla Fondazione Santa Lucia di Roma, dall'Università La Sapienza di Roma e da un'associazione no profit che è la Crossing Dialog che si occupa di curare gli aspetti psicologici dei pazienti e dei familiari dei pazienti.